ciao a tutti oggi vediamo questo bellissimo pendolo abbiamo preso un pezzo di legno levigato lisciato molto bene poi è stato fatto uno scavo per alloggiare un meccanismo pendolo qui lo vediamo già pirografato sia sulla parte della corteccia sia sulla parte frontale e questo è il montaggio la fase di montaggio abbiamo il meccanismo inseriamo dei gommini per spessorarlo poi il nostro quadrante anche questo è stato pirografato e lucidato con della resina si inserisce una rondella e poi si avvita il dado per fissare il meccanismo dell'orologio a questo punto passiamo al passiamo alle lancette abbiamo scelto di utilizzare queste lancette a goccia in metallo di colore nero applichiamo prima la lancetta delle ore poi quella dei minuti si inseriscono a pressione sul perno e infine quella dei secondi e anche il tappino per chiudere il buco centrale posizioniamo tutte le lanciate sulle ore 12 per poi andare a sistemare l'orario corretto corretto una batteria stilo normale 2a sul retro e l'orologio funziona a questo punto dobbiamo solo inserire l'oscillante del pendolo quindi la barra viene inserita in questo disco e poi nel gancio ecco che l'orologio è pronto per essere appeso al muro qui vediamo che sono state messe delle gomme di protezione sia per il muro che per il legno e un gancio in acciaio zigrinato proprio per evitare che l'orologio si muova una volta appeso al muro funziona perfettamente vediamo la pirografia sia sulla corteccia che sulla parte frontale lo scavo che è stato praticato nel legno la lucidatura con la resina serve per proteggere il legno e non far aderire la polvere qui vediamo che il meccanismo sta oscillando perfettamente grazie a tutti per l'attenzione se vi interessano meccanismi per i pendoli o per altri tipi di orologi trovate tutto sul nostro sito elettronicadidattica.com continuate a seguirci e iscrivetevi al nostro canale youtube elettronica didattica ciao a presto